Si è dimessa ad Agropoli lunedì scorso la consigliera comunale agropolese Maristella Buonora. La consigliera appartenente al gruppo civico Agropoli Oltre ha fatto sapere che essendo in stato di attesa, non potendo svolgere appieno il mandato conferito gli dai suoi lettori, ha preferito dimettersi per una questione di coerenza. Al suo posto dovrebbe rientrare Bruno Buffano.